Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati a Silmeier Alpha Centauri. Nello scorso episodio la nostra base universitaria si è espansa, abbiamo creato davvero un bel network di strade, possiamo dire. Infatti vedete che i nostri rover, i nostri terraformer, stanno connettendo tutte le piccole basi che abbiamo formato sul pianeta. Allora, ce ne sono ancora un paio che andremo a fondare anche in questo episodio, dopodiché faremo una pausa e cercheremo di giocare tra virgolette un pochino alto, come si suol dire. Abbiamo costruito già la meraviglia del teatro olografico che permette alle nostre città di tirare un sospiro di sollievo nei confronti dei droni, visto che i network che sono come bonus della nostra fazione in ogni città appena fondata agiscono anche come teatri olografici, quindi è davvero positivo. Ecco, una parola per l'istituto di ricerca Marina, che quando non avrà il problema dell'inefficienza energetica, spero fra due turni, sì di mezzi, avrà sicuramente tanti soldini da darci. Per il resto, come sempre, occhio alla vita aliena, occhio ai vermiciatoli e cerchiamo di non fare sciocchezze. Sposto questo costruttore perché è chiaro che le prendiamo se teniamo il rover a farsi attaccare da questo alieno, spostiamo però il nostro e lo mettiamo in posizione in modo da poterlo prendere appena possibile. Mettiamoci qui dentro e qui avevamo la possibilità di fondare una città, esattamente, fondiamo il Copernic Observatory. Allora, il Copernic Observatory, qui possiamo fare una foresta in tempi brevissimi, farà subito delle Transaplasm Sentinel, che sono le nostre sentinelle personali. Tre di armatura, difesa psionica, un punto di morale in più, sono la nostra elite difensiva. E qui un rover arrivato a Doctriezia e iniziamo qui a fare foreste, eccetera. I PS Keeper iniziano il Command Nexus, fa ridere soltanto a dirsi che i tuttori della pace stanno facendo una meraviglia che praticamente serve per avere una caserma in tutte le città. Tu dove dovevi andare, amico mio? Io un posticino ce l'avrei che è questo, perché poi abbiamo il mare, abbiamo... Però potremmo guardare... no, anche qua, anche qua non è affatto male. O qui. Comunque ci spostiamo per evitare che i funghetti ci facciano degli scherzi. Ok. Non dimenticate che abbiamo il paradigma tecnologico con noi, è meteorologico con noi, che cosa significa i nostri Transformer vanno più veloci del 50%. E i Morganiti ci stanno chiedendo di comunicare. Ci vogliono dare la B3 contro una E3, automazione industriale. Questo è interessante, ci sto, è tecnologia buona. Ci dà il complesso abitativo e il transit system planetario. Che cosa significa? Praticamente tutte le città con meno di tre abitanti perdono un drone e tutte le città nuove che fondo hanno tre abitanti. Ma sarebbe stato bello averlo magari due episodi fa, ma non penso che farò lo switch di meraviglia. Invece l'app complex è carino perché la popolazione può salire sopra a livello 7 perché senza, semplicemente non può salire sopra a livello 7. E qua ci siamo arrivati. Supply Crawler, queste sono figate. E Supply Transport, ve li faccio vedere. Allora. Il Supply Crawler permette di spostare risorse da una città all'altra. Io potrei ad esempio trasformare una città nella città della produzione e poi prendere dei Supply Crawler che vanno verso la capitale e spostare tutta questa produzione nella capitale. Può essere utile per bussare appunto produzione militare, produzione di meraviglie e così via. Figata, pazzesca. E poi abbiamo la ricchezza come tipo di sogno futuro. Wealth. Abbassa il morale delle truppe, ma aumenta di 1 l'economia e di 1 l'industria. Che cosa significa? Morale meno 2, il morale... Oh, i modificatori vengono dimezzati. Economia più 1 significa il costo dei minerali scende del 10% e ogni base dà più 1 di energia. Ogni base più 1 di energia fa... è ridicolo. Lo scontro del 10% non ci serve, il morale ci serve, teniamo la sopravvivenza come valore futuro e non la ricchezza. Allora, ci chiede la dottrina aerea che... non diamo assolutamente a Nabudica e Morgan perché ce la teniamo stretta. Intanto qua abbiamo migliorato l'efficienza, quanto siamo... Beh, allora, prima perdevamo molti più punti di energia, almeno 7 se non ricordo male, adesso solo 4, quindi questa struttura sicuramente ci aiuta. Però non eccessivamente, abbiamo bisogno di potenziare l'efficienza ancora un po'. Inoltre qui abbiamo soltanto... no, 8 in Lab. Allora, andiamo a dare il Research Hospital in modo che il laboratorio aumentino le 50% qui. Allora, i Morganiti ci hanno denunciato, hanno pronunciato una vendetta contro di noi. Wow, già? Andiamo proprio bene. Ottimo. E adesso tu puoi scendere dove ti avevo designato. Attenzione perché a 08 gold arrivano altri verniciattoli. Io provo ad attaccarli e conquistarli, visto che ho svariate unità. Attiviamo questa che non ha bonus difensivi. No, però attacchiamo e distruggiamo, bene. Altro colony pod, bene, Amir Lab. Adesso però lo smettiamo. Qui diamo magari il Biology Lab. E dove si va? Allora, qui ci stiamo andando. Allora, stiamo andando qui. E poi, e poi, e poi, e poi... In realtà ci sarebbe una città in mezzo. Ad esempio qui sulla costa. Oppure nella città qui sopra. Guardate, qui c'è un'unità di C. Sì, lo andiamo qua. Molto più semplice. Tu fermati. Tu fai una bella strada. Il Kelp continua a espandersi al centro marino. Qui abbiamo una bella foresta nuova e ci facciamo anche con la O. Un bel sensore contro i funghi. E adesso il nostro rover è arrivato a Amir Lab. Che prima era davvero poco sviluppato. Adesso invece ne ha addirittura due di rover. Che cosa ci facciamo? In realtà, io ho un'idea. Foreste. Poco distanti. Voglio vedere quanto dà la miniera. Un 2-1. Male, male, male. Diamo i 3-2. Molto meglio. È molto meglio dare gli ordini di pannelli solari in queste basi marine. Ok, Copernic ha fatto la sua unità difensiva. Ne facciamo una seconda. Zolotto qui ha fatto fuori i vermiciattoli. Benissimo. E abbiamo anche l'asilo a Octrizia. Qui abbiamo bisogno di un costruttore. E costruiamo anche un Elite Academics per difenderci. Sono le nostre unità d'attacco migliori. Anche se non le abbiamo ancora potenziate, potremmo creare i lanciamissili. E migliorare le nostre unità, ma non siamo in guerra, quindi non lo voglio fare. Diamo un ordine di creare una strada fino a questo punto, dove ci sarà un'altra città. Eh, dannazione. Ottimo. Dicevamo, Foreste. Gatling Laser. Abbiamo il Laser di livello 5, ma abbiamo già il 6, quindi in realtà non faremo nuove unità. Perché abbiamo già l'arma migliore. Nuova Foreste a Zolotto Gold. E, attenzione, nuova meraviglia. Abbiamo la Citizen's Defense Force. Andiamo a guardarci il video. Alla prossima. Alla prossima. Caspita. Abbiamo un perimetro difensivo in tutte le basi, ragazzi. Perché il tempo si va a avere delle meraviglie che erano veramente meraviglie. E quindi praticamente un edificio gratis in tutte le basi. Un perimetro difensivo che ci servirà, chiaramente. Adesso la nostra bella base University mi va a fare un Research Hospital il più in fretta possibile, visto che qui di ricerca ne abbiamo. E si potenzia normalmente. Qui fondiamo una nuova base che è il Budushi Dvor. Che vedete parte già con il suo perimetro difensivo. E ci mettiamo dentro un verme per proteggerla. E va bene, andiamo avanti. Qui iniziamo a fare... ...strutture. Zolot, Energy Bank, andiamo a vedere che cosa abbiamo. Adesso in Energia 7, che non è affatto male, porca miseria. E andiamo a migliorare a Zolot, a questo punto, l'Air Space Complex. Zolot potrebbe diventare il nostro aeroporto militare, anche se in realtà me ne serviranno due. Magari anche Mirlab diventerà un aeroporto militare. Ma vediamo. E gli spartani fanno il Command Nexus, che è un problemone, perché se hanno una caserma in tutte le città, già loro partono con il morale alto, non è una bella cosa. Però vedremo. Io do gli ordini con la tastiera per questo che non vi vedete cliccare, perché ormai ci ho preso un pochino la mano, come si suol dire. Energy Banks, no, abbiamo soltanto 3 di Energia. Andiamo a fare un Biology Lab, che aumenterà di 2. Fortifichiamo. Intanto qua abbiamo difeso per bene. E abbiamo un Research Hospital a Byconor, che ci porta la ricerca a 16. Pauroso. Adesso Byconor mi fa l'Energy Bank. 16, wow. E qui fondiamo il Climatic Research, ok. Anche qui Transplasma. Vedete che qui abbiamo delle strutture, una città portuale, e qui dovremmo portare il nostro rover marino per lavorare le risorse. Credo di poter dire che le città che volevamo fondare le abbiamo fondate, non credo che andrò a fare molto altro. Noto con estrema, come dire, sorpresa, che Miriam Godwinson ci ha superato in militare e in popolazione, e in generale il punteggio di Miriam Godwinson. Godwinson, quindi, i fanatici religiosi sono più forti adesso degli universitari in questo turno. È proprio il momento di iniziare ad andare alla ricerca di altre frazioni, che cosa ne pensate? Allora, facciamo una cosa. Iniziamo a rushare le strutture nella capitale, visto che l'energia non manca. Quindi, facciamola alla svelta, perché voglio costruire un aerospace complex anche nella capitale, onestamente. E adesso Biology Lab, poi Energy Bank, poi tutto quello che ci serve. Cybernetics, signori, questo è importantissimo per noi, questa tecnologia. A, possiamo costruire il Planetary Data Link. You automatically discover any technology discovered by any three other fractions. Questo è inutile per noi, è inutile, scusate, siamo sempre i primi. Ma quello che è utile è questo, Knowledge. Aumenta l'efficienza, aumenta la ricerca, abbassa ancora di due probe. Saremo assolutamente vulnerabili alle spie nemiche. Ma, adesso andiamo nel Social Engineering, Con la conoscenza, i nostri laboratori di ricerca vanno al 40% più veloci. E l'efficienza ci dà reasonable efficiency, quindi anche con la distanza avremo un po' di soldini in più. Subito, subito. Abbiamo adesso la nostra dittatura, stato di polizia ambientalista, dedito alla conoscenza. Siamo praticamente dei pazzi di armi, alberi e studi, di biologi pazzi. Andiamo sulla Base Control, ok. Qui abbiamo bisogno però di lavorarla, sta base, porca miseria. Facciamo un Funghi, sì, del Funghi potrebbe essere una buona idea, visto che è pieno di Funghi qua. E andiamo al turno successivo, sì. Come ha Nexus fatto da gli Spartani. Basta, tu vai qui. Mir al laboratorio. Adesso iniziamo a giocare alto, nel senso che facciamo tutte le strutture che fino ad ora abbiamo ignorato nelle varie colonie, in modo che spingano. Con questo punto di efficienza in più, perdiamo soltanto 3 punti di energia, nella nostra città marina, un po' più in là. Il che è positivo perché abbiamo 10 punti di energia, tutti nostri. Intanto abbiamo appena notato che Lady Emilia Godwinson ha preso un territorio di Gaia. E noi non possiamo incontrarli perché non ci siamo. Ok, dobbiamo prendere Zolotò, oppure Zaria, oppure Climatic Research e costruire delle navi veloci da esplorazione e buttarci a esplorare. Credo che sia la cosa migliore da fare. Allora, dov'è che avevamo delle strutture schifose? Qui a nord, Copenic, che sta facendo Recycling Tank. Fudushi è qui, ok. Andiamo a fare un po' di miniere e cosette varie. Chaos Gun, un 8. La Chaos Gun, ragazzi, è un livello 8 di arma. Reduction complete. Ok. Ragazzi, io inizio a fare delle cose abbastanza semplici. Costruisco nelle città che si possono permettere dei funghi sai del former e do l'ordine, migliora automaticamente. Quindi là. E questi andranno in giro a togliere funghi, a migliorare e nel tempo non mi dovrò più preoccupare di questo micromanagement. All'inizio volevo migliorare le caselle più juicy. Adesso credo che non serva più, quindi automatizzerò tutto e ne costirò due o tre. Un po' in giro. Visto che comunque costano davvero poco e sono importanti. Bene. Ok, abbiamo la Biology Base University. Che cosa si può fare? Ancora ovviamente l'Energy Bank e poi l'App Complex. Quanto costa? Request confirmation. 284, facciamo sempre il pagamento parziale e diamo 265. Spero che basti, sì. E fra un turno ce l'avremo. Allora, per il Terraforma Automatico, questo è un fungicida, quindi daremo... Aspettate. Ah, a parte che posso fare i Mirror di Echelon, che sono importantissimi, ma... Questi però li dovrei fare... Automatic Fungus Removal. Energy Bank University è andata. E adesso facciamo l'Habitat Complex e poi... Adesso le facciamo tutte. Ok, tu qui puoi fare ancora qualcosina. Anche tu vai a fare un former. E abbiamo l'Habitat Space Complex. La prima cosa che facciamo è un bel perlustratore prototipo di... No, 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 ho sbagliato. Un prototipo di livello 9. Chaos Penetrator. E a te do l'obiettivo Terraform Automatic Roads. Questo sarà automatizzato soltanto per le strade, poi automatizzerò soltanto... Un pochino automatizzo, un pochino scelgo io. Ok, qui abbiamo finito con la strada, benissimo. Ecological Engineering. Non ci dà niente. Attenzione perché il Marine Institute adesso ha un problema di droni. Che noi ovviamente sistemiamo creando una unità, ma sistemeremo mettendoci dentro tre unità di polizia. E poi tanti saluti. A questo punto, no? Ok. Benissimo. Ok, questo è un altro fungicida, quindi Terraform... Control-Shift-F, wow. Control-Shift-F. Control-Shift-F. Eh beh, il Conno devo togliere il cuore, però. Sbagliato. Perché poi penso di essere arrivato al massimo. Infatti... Oh, che due palle. Prenderemo... Eh, non ne ho fatto un in più. Vai a co-opening. Move unit here. E poi lo assegniamo a questa città. Va bene. Energy Bank e tu... Allora, qui iniziamo a fare qualcosa di diverso, però. Allora. Ad esempio, Mirlab lo mettiamo qua e voglio costruire un condensatore. Perché adesso posso fare queste cose che sono fighissime. Un condensatore distrugge un po' il pianeta, però... E ci metto 8 turni, però aumenta le piogge della zona, per dirla in modo semplice. E aumenta il cibo di, tipo, molte caselle. Ok, Growth. Perfetto. E adesso veramente abbiamo tantissimi former. Diamo un'automazione a questi, dai. Devo vedere come si fa. Terraforming. Fully automated. Shift A. E qui facciamo un Aerospace Complex. Perché dovremmo costruire gli aerei. Research Hospital. Fatto. Andiamo di pulizia. Allora, a questo punto... Dammi il workshop perché queste plasma le possiamo migliorare? No. No. Le teniamo così e ne facciamo... Ne facciamo due in questa città. Mmh, Lovatec. Three farm increases psych output at base by 50% and the economy by 50% increases nutrient output in forest square. Elimina la metà dell'ecological damage causato dal terraforming. Praticamente abbiamo le fattorie di alberi, una cosa del genere. Che l'università adesso non può fare altro che fare l'acciaio, il children care. E poi mi va a migliorare anche le foreste perché ne ha un po'. E Zaria invece mi va a fare un bellissimo... Bellissimo. Facciamo una cosa. Rover former. Andiamo a fare nel workshop un potenziamento. Rover fungicida. Ne facciamo subito uno. Ok, perfetto. Ehm... Activate unit, vai qui dentro. Cosa cacchio combinato? Support from here. E adesso... Fully automate. Ok, due unità difensive, bravi. Recycling tank e fortificati. Fui molto orgoglioso delle mie basi. Sensors potrebbero fare tante cose, lo sappiamo. Should we upgrade all of our obsolete rover formers, 012, to the unit with the new fungicidal former, 012 fungicidal? Costa 120 energia, sì. Tutti i nostri rover, adesso i nostri rover terraformer sono anche fungicidi. E abbiamo costruito, se non sbaglio, la nostra prima unità aerea. E adesso voglio diventare una potenza aerea. Anche perché ci permetterà di esplorare notevolmente. Guardate che figata. Praticamente noi adesso abbiamo fuel per 20 caselle. Ah, però qui dobbiamo levare unità. Attiviamo questa unità, la spostiamo. Baikonur è già full. Kopenhik no. Questa la spostiamo a Kopenhik per farla sopportare lì. Guarda adesso per 10 caselle. Ragazzi, abbiamo trovato una roba fenomenale. Ovviamente dopo 10 caselle l'aereo torna indietro e torna la base. Abbiamo trovato le rovine, cioè che è una roba spaziale. Qui ci voglio fare subito una città. Ma veramente pauroso. Wow. E intanto abbiamo anche i cruiser. Bene, abbiamo le navi da guerra, finalmente. O da trasporto avanzate. E possiamo fare gli attacchi anfibi. Benissimo. Allora, Baikonur. Lavorami la trifarm assolutamente. Qui adesso andiamo a vedere dalla parte invece più... Ah, abbiamo incontrato gli spartani, ragazzi. Abbiamo incontrato quella ton tanti. Perché non me lo dà? Abbiamo incontrato una sua unità qui. Strana sta cosa. Comunque, impazienza. Allora. Ah, abbiamo il condensatore, guardate che bello. Adesso, guardate che bello. Qui abbiamo veramente tantissimo cibo in più. Il tree farm, quanto costa fare una harry? 375. Paghiamoli tutti. Ci mettiamo soltanto due turni. E poi a university costruiremo l'aeroporto e faremo degli aerei anche qui. Ehm, perfetto. Perfetto. Ho praticamente automatizzato quasi tutti i costruttori. No, qui l'energy bank non ci sa, qui dovevamo crescere. Però vedo che abbiamo già fatto quello che dovevamo. Allora andiamo di biology lab. E questa unità si deve far supportare da qui. In modo che Zolotto non subisca troppo. Qui facciamo dei sensori. Il nostro aereo. Adesso lo facciamo scendere. Vediamo che cosa... incontra. E adesso gli alberi ci danno 2, 2, 1. Ok, benissimo. Andiamo di Aerospace Complex. Sì. Fungicidal Form. Contro la Earth Shift anche su questo. Adesso il nostro Marino Institute ha 3 unità di polizia, plasma, che dovrebbero bastare. Vado a fare un Chaos Penetrator, ma prima voglio fare un Aerospace Complex, anche qui. Perché? Perché i complessi aerospaziali ovviamente migliorano il morale degli aerei, poi li posso costruire con assoluta calma. Punishment Sphere, che cos'è? Elimina i droni e i talenti di questa base e abbassa le vulnerabilità del Mind Control. Riduce i laboratori di Mads, ma neanche per scherzo. È per città gigantesche e super produttive. Abbiamo il Deep Radar. Dà le possibilità di vedere i nemici oltre le case a distanza. E la AAA Tracking. Ok. Units Defense Against Air and Missile. E poi abbiamo il potere come obiettivo di vita. Andiamo a vedere, ma tanto otteniamo la conoscenza. Potere abbassa l'industria, aumenta il supporto e aumenta il morale. Con supporto a 4 avremmo tipo... Support 4 units or up to base size for free. Ah, cioè se la base size è 10, supporto a 10 unità. Mamma mia. No, teniamo knowledge. Teniamo knowledge. Ah, intanto qui l'aereo è andato alla nostra base, perché chiaramente... Vabbè signori, abbiamo trovato un continente completamente libero. E credo che lo andremo proprio a colonizzare a questo punto. Forse allora conviene fare quella bellissima meraviglia che avevamo visto, che faceva partire alle città già a 3. Non sarebbe affatto male. I Believers hanno distrutto i Gaian. Lady Derder è stata catturata e interrogata. Sembra che Lady Derder sia veramente finita. Non si è salvata questa volta. Ouch. Ouch. Molto male. Adesso faccio un giro delle basi cliccando sul centro, perché automaticamente l'intelligenza artificiale va a selezionare le caselle con più risorse. Perché qui purtroppo il micromanagement è fondamentale e... Sì, ce lo dobbiamo tenere così com'è. Ok, dovrei aver fatto tutto. Ok, va bene. Controllare. Eh, signori, abbiamo trovato gli Spartani. A quanto pare non basta andarli a trovare con gli aerei, bisogna avere un'unità di terra o di mare. Oh, fermi tutti! Fermi tutti! Fermi tutti! Miriam, la sorellina Miriam, ha contattato tutti i leader mondiali e adesso si vuole auto-eleggere come chairman, come cancelliera delle Nazioni Unite, delle fazioni unite. Noi abbiamo soltanto 56 voti. Ne ha 120. Se voglio farmi eleggere, ho bisogno dei 32 voti spartani e vado ad 88. Dei 24 voti di Brother Lowell e vado a 112. E poi ho bisogno anche dei voti di Charmaine Young e di Morgan, non ce la farò mai. E questi ci chiedono anche delle tecnologie. No, niente, io voto per me stesso, ma chiaramente viene eletta Miriam. Dannazione! Questo non è buono. Però adesso sul comlink abbiamo tutti i ragazzi. Allora, siamo riusciti sicuramente a contattare tutti, non siamo riusciti ad esplorare troppo. Abbiamo esplorato soltanto una piccola porzione di continente, la marina non l'abbiamo fatta. Ma adesso devo dire che abbiamo un esercito di terraformer e di rover che è spaventoso e credo che trasformeranno queste città in qualcosa di veramente molto buono. Però dobbiamo adesso pensare di espanderci ancora un po' più in là, secondo me, visto che Miriam ha più popolazione di noi. Voglio vedere, magari prima di salutarci, se posso andare in qualche zona funghina per attaccare i vermi, ma lo vedremo nel prossimo episodio, direi che sul nostro continente ci stanno ancora un paio di città, in tutta onestà. Qui ce ne starebbe una, magari anche qui ce ne starebbe una. Per non parlare del mare, perché qua ci sarebbe una città fantastica, proprio dietro la capitale, con addirittura minerali e energia, qui ci sarebbe una città fantastica. E per quella ho un'idea in mente che forse vi farà sorridere, ma se ci riesco sarebbe troppo divertente. Devo fare due conti però, ma ne parliamo nel prossimo episodio. Come sempre, grazie per essere rimasti con me, lasciate un pollicione in su e alla prossima!